cari ascoltatori e cari aspettatori eccoci qui anche stasera le condizioni di registrazione sono sempre più estreme e come più attenti tra voi avranno capito sono in questo momento in auto auto che va tra l'altro non sono nei parcheggi dei vari supermercati di aprilia diciamo che voglio imitare le trasmissioni dedicati al gioco di ruolo di marco andretto e dei suoi successori di gdr unplugged visto che si parla ciao diego visto che si parla di giochi di ruolo anche oggi inizio subito col darvi un consiglio andate a cercare il loro canale è un canale che non parla ovviamente solo ridattica che parla moltissimo i giochi di ruolo indipendenti quelli che magari chi ha giocato solo a dungeons and dragons o comunque diciamo i giochi cosiddetti tradizionali non conosce quasi e lo consiglio a tutti perché si trova di tutto consiglio in particolare una trasmissione che facevano fino a qualche tempo fa che si chiamava il late night show qualcosa del genere in cui si parlava di gioco di ruolo anche dal punto di vista filosofico del gioco di ruolo indipendente quindi marco andretto questa buona dedicata a te perché sono in macchina esattamente come fai tu ogni mattina quando registri il tuo podcast perché sono in macchina perché chiedo scusa a tutti ma ho avuto un'emergenza veterinaria niente di grave ma l'ambulatorio veterinario si è portato un po' troppo a lungo e quindi adesso ho detto per non perdere tempo siamo qui e ho già perso un minuto in compenso in chiacchiere dunque quindi tutto quello di cui volevo parlare che è il libro di cui ho anticipato ieri l'indice volevo parlare in particolare la parte di beniamino sidoti dedicata al gioco di ruolo viene rimanata un altro giorno ma oggi ne approfitto per fare un po' il riassunto o il recap per gli anglofoni e anglofili di quanto ho fatto all'interno dell'rpg school e fatta a Rosselli come costola della wargame school del giannistro nero mauro faina che ci seguirà dopo dunque ovviamente parlerò di quelle di quei giochi di cui non si è ancora parlato nelle puntate precedenti l'rpg school nasce come progetto pomeridiano per far giocare i ragazzi il gioco di ruolo mi permetto di dire che a differenza di altri progetti esistenti in italia nella maggior parte degli stessi l'obiettivo fondamentale non era esclusivamente far giocare i ragazzi di ruolo e basta saluto Lorenzo che è appena arrivato ciao non è a far giocare solamente i ragazzi e basta intendiamoci questo non per sminuire gli altri progetti già giocare di ruolo ha una marea di valenze positive che andremo ad affrontare meglio nelle prossime giornate però ha cercato di unire il di unire sia le valenze il gioco di ruolo con delle tematiche più vicine ai programmi e programmi delle materie che insegno io quindi fondamentalmente italiano e storia e come prima scelta abbiamo utilizzato il gioco di ruolo dell'olando furioso scritto dal nostro amico andrea angiolino che sauto che so che ci ascolta che mi ha ascoltato quantomeno anche ieri sera e ci ascolterà sicuramente in questa puntata gioco rando furioso che è basato sul suo sistema all'avventura che è descritto all'interno del testo di cui si è parlato ieri tra l'altro e che è strutturato che è diviso in tre diciamo così ambientazioni che angiolino ha fatto durante la sua la sua carriera una egiziana fatta per un progetto per biblioteca di roma una greca mitologica che si chiama mediterraneo e una che si trova anche sul libro games land da cercare online anche se oggi il sito è offline devo informarmi con i curatori su cosa stia succedendo e una appunto dedicata all'ando furioso che era uscita tra l'altro anche in indizioni di lax di cui sono un orgoglioso possessore il sistema di gioco è molto molto semplice usa due dadi da sei di diverso colore per fare i risultati da più tre a meno tre e con un sistema appunto semplicissimo riesce in realtà a fare bene il suo lavoro che è simulare le prove che un eroe deve compiere durante le sue traversie la vera forza ovviamente di un gioco come quello rando furioso è ovviamente la sua ambientazione il fatto che sia molto ben curato il fatto che presenti un'ottima ricerca di tutti quanti potenziali mostri pericoli tesori che un'ambientazione comunque ricca e complessa come quella rio stesca può offrire e che abbia anche delle belle avventure ben ispirate aggiungo anche se non è un gioco di ruolo che in un numero di io gioco Andrea ha presentato anche una una sorta di libro gioco con mappa quindi una metafora un gioco da tavola e un libro gioco un libro game quindi con i paragrafi dedicato sempre proprio l'orlando furioso e che anche quello ho avuto il piacere di utilizzarlo in classe e mi ha dato ottime soddisfazioni perché già dopo una semplice puntata di quello in cui i ragazzi come sempre è previsto nei libri gioco non è che i miei ragazzi siano particolarmente deficienti o forse sì visto che insegno io i ragazzi pur essendo morti abbastanza presto hanno comunque già sola quell'esperienza dato saputo darmi gli argomenti le tematiche principali di un lavoro comunque complesso come l'orlando furioso di Ludovico Ariosto e quindi una parte si è svolta da in quell'ambito lì sempre tornando a inventare destini il gioco di ruolo per educazione il libro di cui si è parlato ieri invito a recuperare la puntata l'altro gioco ben presente è quello di on stage ecco io su on stage ho lavorato tantissimo e ho già parlato di on stage in puntate passate mi fa piacere comunicarvi le novità on stage chiedo scusa per chi non lo conoscesse è un gioco notone come il gioco dell'attore è un gioco che nasce per simulare anche se forse me lo dire rigiocare le tragedie le commedie shakespeariane in cui ogni singolo giocatore è a turno regista ed è a turno attore quindi possiamo dire un gioco indipendente uscito prima che esistessero i giochi indipendenti in cui si può rigiocare una tragedia classica shespiriana o modificando gli archetipi dei personaggi alcuni antefatti si possono anche fare dei fantastici what if ecco il gioco è piaciuto moltissimo ai ragazzi abbiamo rappresentato l'amleto abbiamo rappresentato la patente di pirandello e altri episodi che non ricordo e ha sviluppato moltissimo la creatività degli stessi posso tranquillamente sostenere con orgoglio che due dei lavori nati da questo progetto sono stati pubblicati sui numeri 0 e 1 di Rune i più affezionati al gioco di ruolo si ricordano di Rune mitica rivista uscita oppure a contare gli anni ma almeno 25 anni fa in Italia forse fu la prima rivista bella patinata dedicata al gioco di ruolo non durò tantissimo ma chi l'ha cercata e chi l'ha comprata se la ricorda sicuramente bene ne è uscita una nuova edizione e quindi ho avuto il piacere di presentare la mia rubrica davanti la lavagna quindi dedicata al gioco di ruolo e all'educazione in cui nel numero 0 sono stati presentati il copione del mercante di Venezia scritto tutto assieme da una mia classe seconda geometri di qualche anno fa che poi l'ha presa, l'ha giocata e l'ha testata anche i ragazzi di quinta e una seconda nel numero 1 invece è presente addirittura qui siamo al livello di fantascienza è presente un'opera dedicata a episodio 3 di Star Wars scritta interamente di sua sponte da uno studente praticamente uno studente che al pomeriggio una volta a settimana veniva a giocare a un stage e non solo con me si è preso la briga e l'onere e l'onore di preparare tutto da solo un copione che poi dopo ha playtestato con i suoi compagni di scuola ho un orgoglio enorme nei confronti ovviamente di questo ragazzo e della classe in cui stava che era la mitica b informatica che ho avuto la fortuna di seguire per tutto il triennio che si è diplomata con buoni risultati due anni fa ecco questa Lorenzo Malacrinò mi piace citarlo ha presentato di sua sponte episodio 3 dicendo professore io ho fatto questa cosa qua nel tempo libro se mi presta un attimo il libro assolutamente sì e quindi abbiamo quest'altra opera quindi invito tutti ad andare a cercare di recuperare 1 e 1 con il copione per episodio 3 vedo che il giannizio nero mi sta scrivendo disperatamente come ho detto all'inizio Mauro è già qui con noi c'è rumore perché sto imitando Marco Andretto di GDR Unplugged che registra sempre dalla macchina mentre gira in realtà non è un'imitazione voluta ho avuto un problema veterinario e quindi questo per rispondere a giannizio nero io vi ringrazio per l'attenzione chiudo qui il discorso sperando che non si sia sentita troppa confusione che la mia voce sia comunque più o meno arrivata in caso contrario registrerò nuovamente questa puntata in modo da renderla più foribile per tutti quanti adesso invito tutti quanti a staccarsi da questa mia trasmissione per passare su giannizio nero stagione 2